Mi scuso con Inzaghi, mi devo scusare con Inzaghi perché non l'ho aiutato abbastanza, perché nel calciomercato di gennaio l'ho portato avanti un po' a rilento per tutta una serie di contraddizioni e di episodi sfavorevoli che mi hanno condizionato. Avrei potuto e dovuto portare i primissimi giorni di gennaio alcuni giocatori, non sono riuscito a farlo e con questo non ho aiutato un allenatore in difficoltà, quindi con lui mi scuso profondamente da un punto di vista prima umano e poi professionale e gli auguro tutta la fortuna del mondo perché veramente non l'ho aiutato. Avrei dovuto farlo ma non sono riuscito, non sono riuscito. Questo era numeroso.